Buon pomeriggio, ancora bentrovanti da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Un tamponamento è segnalato sulla 11 tra Monte Catini Terme e Chiesina Uzzanese, la direzione Pisa. Materiali sulla carreggiata sulla Firenze e Pisa Livorno, tra Montopoli, Valdarno e Santa Croce, sull'Arno in direzione Firenze. Veniamo in A1, pedoni tra il bivio complanare Firenze Nord a 11 e Calenzano, direzione Bologna. E ancora in A1, un veicolo in avaria tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. Passiamo ai treni, un accertamento delle autorità giudiziarie in ambito della stazione di Cesena, il regionale 18906 Faenza-Borgo-San Lorenzo è stato cancellato. Viaggiatori con bus sostitutivo partito alle 14.30 ed effettua le stesse fermate del treno. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a Regione Toscana.